allora buonasera anzi dovrei aprire questa prima puntata con un buon anno no benvenuti tutti quanti benvenuti in questa prima diretta dell'anno del sul canale youtube di vesprato come state come avete passato le ferie vi siete riposati siete ancora in vacanza siete in montagna avete mangiato avete già iniziato a fare la ginnastica i buoni propositi di inizio anno beh io si sappiatelo che ho anch'io insomma ecceduto un po durante queste vacanze tra l'altro non sono ancora finite vabbè lasciamo perdere insomma spero tutto bene e qui in vesprato non ci siamo mai fermati stiamo covando novità che ovviamente bene darò ampia ampia notifica nelle prossime prossime settimane nei prossimi giorni prima di venire a salutare un po di persone quindi innanzitutto l'ho già detto auguri abbiamo aperto il canale di telegram poco prima di natale e sta avendo un successo significativo cioè nel giro di due settimane di vacanza si sono iscritti già quasi 150 persone quindi se non siete iscritti al canale telegram fatelo vi lasciato nella descrizione di questa diretta i links chi non conosce telegram scaricate l'applicazione un'applicazione completamente gratuita il vantaggio di utilizzare telegram è che man mano che arrivano tutte le piccole novità siete i primi in tempo reale a conoscerlo novità di tutti i tipi articoli video dirette ma anche insomma magari nuovi articoli che arrivano che sono interessanti che arrivano nello shop di vesprato ovviamente non è che pubblicheremo le novità se arriva un nuovo cacciavite ma sicuramente se ci sono delle novità significative per quanto riguarda i prodotti per il giardino i prodotti per il giardinaggio concimi nuove sementi particolarmente performanti i primi a saperlo in assoluto in tempo reale saranno iscritti al canale di telegram ecco per cui è un buon motivo per farlo un'altra cosa ovviamente è passato un anno poco più di un anno che è uscito il nostro libro anche qua una grandissima soddisfazione nonostante che adesso oltre che essere disponibile in amazon l'abbiamo messo anche disponibile nel nostro sito siamo comunque sempre costantemente tra i best seller di giardinaggio in amazon posso dare una notizia che è una bellissima notizia per quanto mi riguarda poi insomma ci riempie d'orgoglio ma è più un ringraziamento a filo d'erba il metodo vesprato per avere un bel prato è il libro dedicato al tappetto erboso più venduto nel 2019 quindi insomma una grande una grandissima soddisfazione un grande grandissimo ringraziamento a tutti quanti voi e la testimonianza insomma che comunque lo sforzo che abbiamo fatto è stato uno sforzo che apprezzato ci sono quasi 50 recensioni in amazon sono quasi tutte veramente positive ci riempiono di orgoglio e tra l'altro sono proprio perfettamente pertinenti rispetto a quello che era l'obiettivo di questo di questo librettino bene diciamo salutiamo un po di persone prima di andare alla sostanza di questa diretta qua ci sono un po di ombre perché ho messo male le luci perdonerete le immagini oggi non sono perfette allora saluto aldo pisano michele mantese giovanni dalla corte massimo scacchetti il went to giuseppe silvino walter pretricola ciao walter silvio pallumbo francesco buongiovi lorenzo ravaglia che era anche collegato se non sbaglio lorenzo sulla mini diretta in instagram che abbiamo fatto qualche minuto fa prima di partire giuseppe damiano panelli manuel narducci sebastiano sudano lorenzo ravaglia ho già detto danilo salvati omar manente valnar gianluca de conno gianluca cia gianluca gianluca e basta antonio vettore giuseppe tirrito ciao giuseppe daniele corradin queste le prime persone che si sono collegate questa sera allora lorenzo dopo vengo anche a rispondere ovviamente a tutte le vostre domande oggi faremo una puntata abbastanza rapida abbastanza veloce insomma l'epifania non so se siete andati a vedere l'accensione dei fuochi o a bere il vin brulee insomma di cose da dire ne ho tantissime per cui direi di non perdere tempo e di partire subito ho preparato delle slide però ripeto anche le slide questa sera le utilizziamo come riepilogo dopo che vi ho enunciato i temi piccola nota avevo promesso ieri che oggi avrei fatto una diretta per il trattamento che ho fatto nel nel prato che che faccio nel prato nel mese di gennaio non ho potuto fare perché questa mattina purtroppo ahimè qua in sabito tagliamento c'è stato brutto tempo cioè nuvoloso e c'era la brina c'era il gelo sul prato fino praticamente a mezzogiorno e luna quindi la finestra di tempo ne parleremo tra un attimo per fare quel trattamento che io consiglio di fare un po' a tutti quanti di cui ne parleremo proprio non l'ho fatto meglio direte voi così lo vedrete nei prossimi giorni le previsioni del tempo danno che la giornata ideale per farlo dovrebbe essere mercoledì vediamo cioè no domani dopo domani giovedì per cui vediamo domani martedì scusate dopo domani che sono fuso dopo domani che mercoledì le previsioni quale dell'osmer danno come giornata ideale per eseguire quel tipo di trattamento basta direi cinque minuti li abbiamo fatti passare i ritardatari mi perdoneranno se andiamo subito al dunque prima di partire un'ultimissima considerazione anzi notizia dopo domani mercoledì mattina la newsletter di dopo domani che in realtà non è la prima newsletter dell'anno ma sarà la seconda newsletter dell'anno ho deciso che sarà tutta focalizzata in quello che considero il trattamento da fare nel prato durante questa stagione è uno degli argomenti di questa sera però nella newsletter di mercoledì darò un po' una visione un po' più approfondita o meglio più articolata di quello che è il trattamento perché vedete i prati durante il mese di gennaio generalmente vanno in dormienza quindi rallentano significativamente le loro attività vegetativa ma non è così non è così perché molto spesso i tappeti erbosi sono costituiti in quelle che i tecnici chiamano isole di calore cosa significa significa che quando un prato come il giardino ad esempio di besprato è attorniato da una casa protetto da una siepe quindi i venti freddi arrivano di meno la casa comunque emana un suo calore per il raggiamento qua tra l'altro il tappeto erboso è tra casa e ufficio per cui c'è una situazione in cui il prato è sostanzialmente a qualche grado in più rispetto a quello che dovrebbe essere in queste situazioni diciamo che siamo anche quando fa freddo non in un inverno così difficile così frustrante così difficoltoso per il prato come sarebbe se fosse in campo aperto un tappeto erboso di festuca arrondinacea adesso in campo aperto sicuramente vive di dei problemi che sono di altro tipo e i trattamenti alcuni trattamenti sono particolarmente difficili da fare invece noi siamo fortunati o meno quanti di voi sono nella situazione che ho appena descritto potrebbero essere più fortunati bene direi bando le ciance salutiamo ancora altre persone Antonio Vettù mamma mia Manuel Zaccarì Massimo Fissore Fabio B Giovanni Caggiano Ciao Maurice Piccini Maurizio Pietrarca Leofrgt Daniele Coradin E mi pare di avervi salutati tutti Allora facciamo vedere subito una slide che è un po' una slide di riepilogo Guida i lavori l'abbiamo detto bla 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 Di cosa parliamo questa sera? Eccolo qua L'ho messa la slide? No Non l'ho messa Sì l'ho messa Eccola qua Allora Parleremo dell'altezza dell'erba Delle infestanti Della stimolazione del prato Delle ammendature nel terreno Del muschio Delle foglie Dei detriti Delle siepi Delle piante fredolose Delle attrezzi del giardinaggio Delle potature Voi direte Ma Fabio Riusciamo in 40 minuti a parlare di tutte queste cose Riusciamo appena appena a dare dei piccoli accenni Il titolo della diretta di questa sera è Guida i lavori di gennaio nel prato e nel giardino Quindi mi perdonerete se tocchiamo molto velocemente E ci soffarmeremo un po' di più Nel punto 3 Ok? Quindi Partiamo subito E bando alle ciance Diciamo due cose Per quanto riguarda Togliamo innanzitutto questo L'altezza dell'erba Allora Chi tra di voi segue Besprato Segue il metodo Besprato Ha letto il libro Sa che All'interno del libro In tutte le dirette In tutti gli articoli del blog Ci sono scritte le altezze di riferimento Da tenere Durante le varie stagioni Un'altezza che va bene A primavera Non è l'altezza corretta da tenere in estate L'altezza di estate Non è l'altezza corretta da tenere in autunno E in inverno anche qui c'è una regola che chiama il prato ad essere tenuto un po' più alto Tenere il prato un po' più alto serve a tantissimi vantaggi C'è una difesa della pianta Una capacità della pianta di strutturare la propria attività vegetativa in maniera migliore E quindi il prato va tenuto sui 7 centimetri 7 o anche 8 centimetri Anche se il prato arriva a 9 non crea problemi Quando il prato inizia a superare i 10 centimetri Ecco che bisogna alzare un po' le antenne Perché? Perché da una parte il prato avrà una tendenza Si dice a filare Quindi un po' indebolirsi E dall'altra parte c'è tanta struttura vegetale Che probabilmente richiede diciamo uno sforzo eccessivo Per cui fondamentalmente non siamo nelle condizioni di massima efficienza di quel prato Per dire a 10 centimetri si può tenere un prato in primavera È un po' difficile camminarci sopra Ma nutrito in maniera corretta, mantenuto in maniera corretta si riesce a fare D'inverno è problematico Quindi alziamo un po' l'altesa di taglio Non preoccupiamoci se il prato sta alzandosi un po' Iniziamo a drezzare le orecchie quando misuriamo 10 centimetri In questo caso bisogna affrontare un eventuale taglio Il taglio come dico, come ho sempre detto e come c'è scritto anche nel libro È un'operazione che va fatta anche se è inverno Ovviamente bisogna evitare le giornate con gelo per tutto il giorno O tagliare il prato gelato oppure nei terreni molto pesanti Il problema vero Il problema vero di tagliare, di non riuscire a tagliare il prato durante l'inverno È la pesantezza del terreno Terreni non molto compatti, un po' soffici Pieni di coni, di lombrichi Potrebbero rappresentare un problema Terreni in ombra nei quali l'erba stenta a mantenersi compatta Potrebbero essere un problema Ma al netto di questi problemi il prato va sempre tagliato anche d'inverno Sceglieremo una giornata mite, sceglieremo una giornata senza brina Sceglieremo una giornata al più possibile con temperature elevate E faremo un taglio in tarda mattinata Ok? Bene, parlato del taglio andiamo ad affrontare il capitolo delle infestanti Perché come ho detto nella diretta di domenica E come chi tra di voi mi sta seguendo in questo percorso di analisi Ho registrato nella super agenda di Best Prato Tra l'altro chi è interessato trovate il link in descrizione Tra l'altro c'è una promo mi pare fino a stasera Allora, il 3 di gennaio io solitamente ogni venerdì mattina Ogni venerdì pomeriggio utilizzo il venerdì per scrivere alcune note generali sull'agenda Perché lo considero una delle cose più importanti da fare Che dovrebbero fare tutti i giardinieri E che dovrebbero fare anche gli hobbisti Segno nell'agenda tutte le operazioni quando le faccio Vi farò vedere domani o dopodomani Dopo aver fatto il trattamento cosa vado a scrivere Ma il venerdì lo utilizzo per un riepilogo Nel quale do alcune valutazioni Faccio alcune considerazioni Vi leggo quelle di venerdì scorso Vabbè, ho scritto settimana fredda Con brina notturna Ci sono state 3, 4, 5 giorni E stanno continuando adesso Quindi il prossimo venerdì probabilmente scriverò di nuovo Che c'è stata una settimana piuttosto fredda Per me fredda significa con le temperature di notte che vanno sotto zero Evidentemente se c'è la brina Ho scritto che ci sono state delle giornate solleggiate E questo è importante per capire poi a posteriore Perché quando c'è una giornata solleggiata C'è più facilità dell'erba di svolgere la fotosintesi corofeniana E quindi mi aspetto delle risposte Ma vi volevo leggere Lascio perdere tutte le altre considerazioni che ho scritto Sull'altezza del prato, eccetera, eccetera Ho scritto La poa annua sembra aver smesso di andare a seme Chi tra di voi ha visto un po' di dirette qualche settimana fa Ha visto che ho anche ripreso alcune zone In particolare nella zona a dest Vicino a un tombino Vicino ai tombini di cemento Dove c'erano dei focolai di poa Si notavano proprio delle zone più chiare E probabilmente nelle prossime settimane Lo noterete anche voi Quando c'è stata quelle settimane di temperature piuttosto miti Era intorno ai 13-14 gradi E ha piovuto molto Ecco che la poa, che è un annuale La poa annua, stiamo parlando È un annuale È andata in semenza Cioè c'erano le spighette Le uniche operazioni che noi possiamo fare adesso Per contrastare questo tipo di infestanti Ma più in generale per tutte le infestanti Non possiamo utilizzare diserbi di tipo chimico A parte che io sono contrario e voi lo sapete Il problema è che adesso fare un diserbo Non ha nessuna efficacia Perché la pianta fa difficoltà ad assorbire il diserbante sistemico E quindi ha pochissima efficacia Ma, c'è un ma Per la poa annua non esistono diserbanti Quindi o ve la tenete E quindi poi non mi venite a piangere a marzo Dicendomi Fabio cosa posso fare per togliere la poa? Niente Si possono fare Devi solamente fare un diserbo totale in quella zona E andare a reseminare Molto meglio, suggerisco io Durante tutta la stagione invernale E quindi io adesso ho iniziato Fare al venerdì un controllo Io quando scrivo l'agenda Ho fatto anche una piccola camminata Nei bordi del prato Sopra il prato Vado a vedere, controllare Vado a vedere là dove ci sono delle dicotiledoni Delle foglie larghe che stanno nascendo E laddove invece Si nota proprio queste spighettine Di foglia tendente al chiaro Ragazzi Non occorre avere il coltellino Basta andare a prendere con le due manine L'ho fatto vedere in diretta E andare a strappare L'effetto qual è? Si crea un buco Perché la poa annua è rezomatosa È strisciante Quindi quando noi andiamo a strappare In realtà andiamo a creare delle zone vuote Però O così O ce la teniamo Nel senso Io preferisco adesso Creare un po' di zone vuote E poi Tra un mese Due mesi Scusate A inizio marzo Fine febbraio Valuterò Se andare ad intervenire Con una risemina localizzata Ok? Bene E così abbiamo Aperto e chiuso un po' Poi magari se volete sapere Qualche cosa in più Scrivetemi pure le domande Per quanto riguarda le infestanti Veniamo al punto 3 Quello che ho detto prima Che è quello che mi premeva di più dire Che è la stimolazione del prato Allora La doverosa premessa l'ho già fatta prima È evidente che se avete un prato di festuca rondinacea In pieno campo Adesso sta subendo notevolmente gli ingiallimenti Quegli ingiallimenti lì che sta subendo il prato Sono giocoforza Non è che facendo una stimolazione Una protezione Una concimazione Andate a diminuire Quel tipo di ingiallimento Però secondo me Per ora Di quelle situazioni lì Si dovrebbero proprio contare Sulla punta delle dita Soprattutto Se avete eseguito Le concimazioni potassiche Domenica Uno tra di voi Non mi ricordo chi Mi ha scritto Fabio Ma sono ancora in tempo Di eseguire la concimazione potassica? Ma ragazzi Siamo all'inizio dell'inverno Non c'è motivo per non farla Cioè È evidente che la concimazione potassica Di irrobustimento del prato È una concimazione che io Consiglio di fare A novembre Perché? Per dare tutto il tempo Alla pianta di immagazzinare Di farsi forza Utilizzare dicembre Che generalmente Ma Notoriamente Si suggerisce di fare La concimazione potassica Antistress invernale A novembre Perché Alcune volte Capita che le gelate Arrivano a dicembre Cioè il freddo L'inverno in anticipo Quest'anno non è stato così Stiamo ancora aspettando Il freddo Quello vero Ok? Chissà Arriderà Non arriderà Certo è Che non fare La concimazione potassica Perché Non la si è fatta E si dice Vabbè dai Siamo all'inizio di gennaio Tra un po' Devo fare la concimazione Primaverina Ma state scherzando Proprio un approccio Completamente sbagliato Significa portare In sofferenza Il tappeto erboso Quindi Prima nota Se non l'avete fatto Fatela Autunche Un concime potassico Usatelo Usatelo Se viceversa Ad esempio Avete fatto Delle concimazioni potassiche Molto Molto Tempo fa Potrebbe essere Che il prato Stia andando Un po' In carenza Di azoto Perché abbiamo avuto Un dicembre Con forti crescite Perché le temperature Sono state i miti Allora io Consiglio sempre Ed è un punto Vedete Sono passato al punto 4 Prima del punto 3 Ma vi dico il punto 4 E poi Tanto insomma La successione È questa Non è importante Non hanno Non hanno un ordine No Le cose che devo dire Le ho scritte Come mi venivano in mente Un elenco Di cose Come mi venivano in mente L'ammendatura Del terreno Cioè andare A dare sostanza organica Nel terreno Può essere Un fattore Compensativo Per limitare Ritardare E sostenere Il tappetto erboso Se noi abbiamo fatto Una concimazione potassica Azoto potassica Per dire Alla fine di ottobre E quindi Sono già passati Due mesi Potrebbe essere Che al posto Di rifare Una concimazione azotata Che adesso Non ha nessun senso Andiamo a somministrare Invece sostanza organica La sostanza organica Non è nutrimento diretto Ma adesso il prato Non ha Tanto bisogno Di nutrimento diretto Ha bisogno Che il potassio Lavori Ha bisogno Che gli elementi Che sono presenti Nel terreno Che sono stati dati Con le concimazioni Siano disponibili Per questo motivo Io suggerisco Se avete un sentore Se avete un sentore Ripeto Che il vostro terreno Sia un terreno Poco fertile Potrebbe essere Molto utile Molto utile Andare a dare Andare a somministrare Della sostanza organica Nobile Quindi parlo Per chi conosce Del nutrattiva Parlo cioè Di concimi Di tipo organico Che vanno a dare Acidi umici Che vanno ad aumentare La fertilità Ne abbiamo parlato Anche a dicembre Di questo tema Lo ripetiamo Perché Non perché Dobbiate fare Di nuovo Il trattamento Se lo avete fatto Ma può essere Estremamente utile Per coloro Che non hanno fatto nulla Andare a fare Questo tipo di lavoro Quali sono i benefici Della sostanza organica Sono tantissimi Qua ne ricordiamo Solo due Aumentano La capacità Di scambio cationico Del terreno E quindi Rende disponibili Quegli elementi Minerali Che In alcune situazioni Potrebbero anche Creare Degli ingialimenti Una difficoltà Da parte dell'erba Di assorbire Il ferro Portano a clorosi Ne parleremo dopo Per quanto riguarda Le siepi Perché molti di voi Abbiamo appena pubblicato Un articolo Nei confronti Dell'ingialimento Della siepe Molto spesso È dovuto A una difficoltà Che ha alcune piante Della siepe Ad assorbire il ferro Perché Quel terreno lì È leggermente basico Ok Andare a dare Della sostanza organica Ed è per questo Il motivo Per cui io ripeto sempre Che all'inizio Dell'inverno Andrebbe dato Nelle siepi In tutte le alberi Da frutto Da giardino A uole Piante Siepi Andrebbe fatta Un'ammendatura Del terreno Dare sostanza organica Al terreno Del prato Delle piante Anche Previene Uno I rischi Di disidratazione Da gelo Quindi Un altro vantaggio E inoltre La sostanza organica Ha questi poteri Tampone Quindi Di riequilibrare Dei pH Sbagliati Anche tampone Relativamente Alla struttura Del terreno Vedete Quanti i vantaggi Il dare sostanza organica Potremmo farlo Anche a primavera Attraverso delle somministrazioni Più d'urto Quindi utilizziamo I prodotti liquidi A marzo Ma se invece Il mio consiglio È quello di Coprire tutto L'arco dell'anno Con una cura agronomica Il mio consiglio È quello di andare A distribuire Un di 15 20 grammi Per metro quadro Di un concime Granulare Specificatamente Studiato Per il prato Dimenticatevi Gli stallatici Perché poi Ve li ritrovate Lì ancora In agosto Vanno utilizzati Dei prodotti Specifici Dopo Vi faccio Rivedere Nelle slide Nel riepilogo Di tutte le voci Di punto per punto Ci sono anche Gli esempi Di prodotti Da utilizzare Ma veniamo Alla ciccia Veniamo Alla stimolazione All'aiuto Del prato Del Del tappetto Urboso Durante l'inverno Fate tutte queste premesse La stimolazione Rappresenta Un grandissimo Aiuto Potenziale Perché Aggiungo Potenziale Perché è evidente Che se il vostro prato È in una condizione Di perfezione Non ha bisogno Oppure Viceversa Il vostro prato È in una situazione In cui Non è possibile Godere Dei vantaggi Di una stimolazione Avete casa In montagna In cui c'è Di notte Meno 10 E di giorno 3 gradi Lì non dovete Fare niente Quello che avete fatto Forse Forse potreste Distribuire Un po' di sostanza organica Ma A meno 10 E 3 gradi Sta ferma Ne ha manco Si decompone Quindi In quelle situazioni Lì Tutto quello Che dovete fare Avreste già dovuto Farlo Ok Lì non ci sono Situazioni In invece Situazioni Nel quali Nelle isole Di calore Così chiamate Nelle zone Nelle quali Il prato Ha una sua Reattività Ancora adesso Noi Possiamo Utilizzare Il mese Di dicembre Per fare Un trattamento Che ha Un aiuto Potenziale Molto significativo Una piccola Premessa E una piccola Premessa Anche per quanto Riguarda poi Che è la stessa Che volevo fare Per quanto Riguarda Il discorso Della pulizia Del prato Dunque A gennaio Al nord Italia Ci sono Poco meno Ci sono Meno di nove ore Di luce solare Durante il giorno Cioè Il sole Sorge Adesso Intorno Qua da noi Al sud Un po' prima Qua da noi Intorno Alle otto Meno un quarto I primi raggi Del sole Inizia ad albeggiare L'ora blu Parte Diciamo Intorno Alle sette Un quarto Il sole Sorge Verso le otto Tocca Il prato Dipende Poi da Quanto Quanta ombra C'è Comunque diciamo Che c'è luce Dalle otto Otto e mezzo Di mattina Fino ad arrivare Se la giornata È terza Alle quattro E mezza Di pomeriggio Qua il sole Va proprio giù All'orizzonte Per darvi Un'idea Ad aprile Queste Otto e mezza Otto e tre quarti Di luce Che ci sono a gennaio Diventano Quattordici Ok Cioè Diventano Quasi il doppio Quindi Cambia Completamente No E questo Per questo Io queste cose qua Ad esempio Le segno Venerdì Ho segnato A parte che ho Un'applicazione Che me lo dà Ma mi piace Tenere nell'agenda Queste cose Ho segnato È sorto il sole Alle 7.50 Tramonta Alle 16.30 8 ore 45 Di luce Già Nelle prossime Settimane Pian pianino Inizia a dilatarsi Cosa voglio dire Adesso a gennaio Con la fine di dicembre E gennaio Sono le giornate Più corte In assoluto Quindi significa Che la capacità Di svolgere la fotosintesi Chlorofiliana È molto Molto Bassa Una volta Gennaio Effettivamente Era il mese Insieme a febbraio Più freddo Dell'anno Ma adesso Con queste mutazioni Vuoi riscaldamento Vuoi cambiamenti Climatici Vuoi Non lo so Caso Questo fatto Che le giornate Più corte Coincidano Con le giornate Più fredde Non è più vero Soprattutto Per l'ultima parte Di dicembre Molto evidente E anche in questi giorni In realtà Non fa freddissimo Forse arriverà Del freddo Ancora più intenso Però Cosa voglio dire Con questo Che Il prato Continua a vegetare Quando non fa Molto freddo Però Ha una grandissima difficoltà Di svolgere La fotosintesi Corofiniana Ecco che Il bravo giardiniere Mette in atto Tutte le Buone pratiche Per aumentare La fotosintesi Corofiniana Abbiamo già parlato Il trattamento Da fare a novembre Il trattamento Da fare a dicembre O meglio Il trattamento Che io suggerivo Di fare a dicembre Contro il diradamento Contro l'assottigliamento Fogliare In aiuto Per la fotosintesi Corofiniana Ovvero L'utilizzo Delle alghe brune Zacchete Se riusciamo a farlo Se ci sono le condizioni Per poterlo fare Ha una grande utilità Anche durante il mese di gennaio Sì ma voi direte Fabio Durante il mese di gennaio Come fa il prato Ad assorbire I prodotti Che si tratta Da fare Io solitamente Do delle indicazioni Molto precise Fallo alle 11 di mattina Perché facendo Alle 11 di mattina Hai Mezzogiorno Luna Le 2 Le 3 Le 4 Hai 5 6 ore di tempo Nelle quali Il prato Massimalizza La capacità Di assorbire Questo prodotto Fallo in una giornata Di sole Fallo in una giornata Di piena luce Fallo in una giornata In cui Se c'era la brina Si è asciugata Se la foglia era umida Si è un po' asciugata Fallo in una giornata In cui Magari anche se di notte Le temperature sono Sono andate basse Di giorno però Le temperature vanno A 10 11 12 gradi Oh Guardate bene Queste sono condizioni Difficili da trovare Qui da me Ma Io sono convinto Che A Roma A Napoli A Reggio Calabria A Palermo In Sicilia A Sardegna In Puglia In Calabria In Basilicata Ma anche nel Molise Negli Abruzzi Nel Lazio In Campania Sono situazioni Che sono facilissime Da trovare Quindi Ok Qua dal nord Facciamo Prendiamo Questo discorso Molto importante Da fare Secondo me E cerchiamo Le condizioni Per poterlo fare Ma A parte Nord Italia In tutto il resto Dell'Italia Sono dei trattamenti Che hanno Una grande Hanno un potenziale Molto più ampio Di utilità Ok Perché vi dico Di scrivervi La newsletter Di mercoledì Perché mercoledì Oltre che Raccontarvi Come i dosaggi Quali prodotti Utilizzare Darò anche Darò anche Una lettura A cocktail Chi tra di voi Ci segue Mi segue Sa che Soprattutto In primavera In estate Ho parlato Di questi cocktail Cioè Di unire Al biostimolante Biostimolante Di tipo A base Di citocchinine Alge brune Il pre-stress Per capirsi Possiamo andare A unire Degli altri prodotti In inverno Pochissimi altri In particolare Idrodizzati proteici Che potrebbero avere Una grandissima utilità E O Dell'azoto Ureico Però bisogna fare attenzione A utilizzare Le concimazioni Fogliare Durante questo mese Perché ovviamente Non dobbiamo Andare a caricare Troppo di azoto La pianta Perché C'è sempre Il rischio Di malattie Voi sapete Che Le malattie Sono attirate Da L'eccesso Di umidità E anche Un eccesso Di azoto Ok Bene Abbiamo un po' Sviscerato Questo punto Poi magari Se ci sono Delle domande Cercherò Di rispondere Ma intanto Andiamo avanti Allora Abbiamo parlato Del Del taglio Dell'erba Delle Diciamo Della attenzione Sugli infestanti Dell'ammendatura Del terreno Della stimolazione Parliamo Diciamo Alcune Due cose Sul Mantenere pulito Il prato E E' collegato A questo discorso Abbiamo una situazione Di meno di nove ore Di luce Quando c'è la luce Perché quando c'è nuvolo Veramente È una situazione Molto difficile Quindi Se aumentiamo Gli schermi Alla luce solare Capite benissimo Che è un problema Quindi Tenere pulito il prato Dai detriti Dalle foglie Dalla sporcizia Rastrellare Raccogliere Tutto quanto Può essere Da schermo Alla luce Lo schermo Alla luce Crea Una persistenza Di umidità La quale Crea Molto facile Insediamento Dei muschi Ne abbiamo parlato Anche a dicembre All'interno Del tappeto Urboso Ora Il muschio Non possiamo Combattere A gennaio Anche perché In realtà Potremmo Bruciarlo Anche qui Anche il muschio Diminuisce notevolmente Le sue attività Vegetative Quando fa molto freddo E quindi Utilizzare Tutte le soluzioni Caustiche Il solfato di ferro Per bruciarlo Fa difficoltà In questa stagione Ok Ma poi Soprattutto Si riforma Cioè Noi dobbiamo Eliminare il muschio Quando sarà possibile Eliminarlo Per andare poi Subito a riseminare Questo è il gioco Di Di un Di un approccio Risolutivo Del muschio Che poi Non è neanche così Perché L'approccio risolutivo Del muschio È Capiamo perché Si forma il muschio Creiamo una situazione E Lavoriamo Progettiamo Per una modificazione Che crei Il muschio Si forma perché C'è una persistenza Di umidità Persistenza di umidità Perché il terreno È argilloso Quindi Modifichiamo il terreno Con delle bucature E delle sabbiature Operazione Che faremo A marzo Unitamente a questa È una zona In persistenza D'ombra Facciamo Utilizziamo Delle sementi Più specifiche Per l'ombra Utilizziamo Degli agenti Umettanti Per rendere Il terreno Il più drenante Possibile E facciamo Delle biostimolazioni Dopo Aver eliminato Col solpato di ferro Con dei concimi Ricchi Di ferro Chelato O di ferro In senso Caustico Che lo vanno A bruciare Bene Operazioni Che generalmente Si fanno E si possono fare All'inizio Della primavera Quindi a marzo Ok Cosa possiamo fare Adesso Possiamo rendere Il terreno Drenante E possiamo Acidificarlo Leggermente Se c'è una situazione Nella quale Sapete Che lì si forma Sempre muschi Si forma A gennaio E febbraio Andate a distribuire Un po' Di concimazione A base Di solfato Di ferro Senza eccedere Perché Non dobbiamo Neanche Perché va Ad acidificare Che va a creare Una situazione Di difficoltà Dei muschi Ok Bene Ora Entriamo Nel capitolo Giardino Affrontando In maniera Un po' Più veloce Poi ho visto Che ci sono Già diverse domande E quindi Interromperò Un po' La diretta Un po' Prima Rispetto al solito Per venire A rispondere Ce ne sono Già tantissime Alle vostre domande Allora Adesso In rapida Successione Affronteremo Il discorso Un po' Di un accenno Alle siepi Alla protezione Delle piante Alle potature E agli attrezzi Allora Però ci andiamo via Molto veloci Perché Perché per le siepi C'è un articolo Nel blog Iscrivetevi al canale Telegram Lì trovate Links Nel coso Se no Andate a vedere Anche credo Una diretta Un paio di dirette fa Mi pare di averne parlato In maniera Esplicita Allora Le siepi Adesso Stanno iniziando A manifestare Qualche problema Più di qualcuno Di voi Mi ha scritto Si sta ingiallendo Fabio Ora Il 90% Delle volte Che le siepi Si ingialliscano È perché C'è una Carre È una clorosiferica Come fate a scoprire E che cosa potete fare Allora Andate di fronte Della siepe Generalmente Questo tipo di problemi Sono sulle siepi Arbustive Quindi non sulle conifere Ok Quindi non sul Sul taxos Sulla tuia O sul Cupress cipari Sto parlando Dell'alloro Dell'auroceraso Di questo tipo Della fotinia Di questo tipo Del pittosforo Di questo tipo Di siepi Che Manifestano Io ho fatto Proprio nei giorni di Natale Ne ho parlato Durante La diretta Della volta scorsa Una camminata Qua E ci sono Un disastro Di piante Di alcune siepi Che sono ingiallite Ora Andate di fronte Alle vostre siepe Prendete le foglie Strappatevi alle foglie E osservatele Se la foglia Ingiallita Ha le nervature scure Ed è una foglia Giovane Il 90% Delle volte È clorosiferica La clorosiferica È Una mancanza Di assorbimento Del ferro Seguitemi bene Non è una mancanza Di ferro Nel terreno O potrebbe anche Essere una mancanza Di ferro Nel terreno Ma è la pianta Che fa difficoltà Perché fa difficoltà La pianta Ad assorbire il ferro Perché fa difficoltà Quella pianta Ad assorbire il ferro E non quella pianta Vicina Beh Perché lì Il terreno Potrebbe avere Delle caratteristiche Diverse Quali Il pH Ad esempio Un pH Non Di 7 7,5 Rende Molto meno Disponibile Il ferro Oppure Un terreno Poco fertile Rende meno Disponibile Il ferro Allora come si fa A intervenire Modificare il pH È molto difficile Anche perché Poi il terreno Tende a un effetto Tampone A riportarlo Negli stessi valori E quindi Lì dovremmo andare A somministrare Del ferro Ora Solfato di ferro Ora Si può fare adesso Perché no Cioè È tutto in relazione Alle temperature Cioè La pianta Continua Sicuramente Il riposo vegetativo Sicuramente Farà Una certa Difficoltà Ma intanto Lo andiamo A somministrare Se invece La foglia È una foglia Grande Nodosa Turgida Cioè Vecchia Grande Ok Allora La carenza Potrebbe essere Sia di azoto E sia di ferro L'azoto Non glielo diamo Andare Però Andiamo a fare Una somministrazione Di sostanza organica E dopodiché Andremo a fare Un correttivo Significativo Invece A primavera Per quanto riguarda Invece Le siepi Di conifere Attenzione Le siepi Di conifera Richiede La concimazione Ammendante Del terreno Quindi La somministrazione Di sostanza organica Fatta in inverno Ma c'è una cosa Che a differenza Delle altre siepe Dobbiamo fare A gennaio Se avete Una siepe Di conifera Se avete Anche delle conifere Nane In giardino Vi prego Vi supplico Fate un trattamento Di protezione Dalle patologie Fungine Le bruniture I dissecamenti Delle conifere Anche se avete Un cipresso In giardino Bisognerebbe fare Un trattamento Con la Poltiglia Bordolese Nel blog Di Besprato Ne ho già parlato Tante volte Qui C'è La maniera C'è spiegato Come farsi La poltiglia Bordolese In casa Il vantaggio Di farsela In casa È che possiamo Andare a dosare La quantità Di Calce Perché la poltiglia Bordolese È fatta Da solfato Di rame E calce Idrata Possiamo Andarle A riequilibrare Creando Una poltiglia Bordolese Che magari È un po' Più d'urto Se notiamo Che c'è Una brunitura Dall'altra parte Invece Possiamo fare Un trattamento Più preventivo Utilizzando Un po' Più di calce Rispetto al solfato Di rame Ok Comunque Nella descrizione Di questa diretta Vi ho messo Un link Nel quale C'è Riepilogo Di queste cose Dove ci sono I prodotti Dove ci dovrebbe Essere anche Il link Per farsi La poltiglia Bordolese In casa Ok Veniamo A parlare Molto velocemente Cavolo Adesso Veramente Sì Molto velocemente Sulla protezione Attenzione Il freddo Non è arrivato Abbiamo fatto Una newsletter Sulla protezione Delle piante Un mese fa Se non l'avete fatto Andatevele a rivedere Ok Bisogna proteggere Le piante Se avete Gli agrumi Il cicas Il fico d'india Le piante Grasse Le cactace Se le avete In vaso Portatele Ridossatele Coprite Col tessuto Non tessuto Metteteci I capucci Se sono A terra Pacciamate Con della corteccia Di conifera Di pino Copritele Cioè Due Tre gelate Possono Veramente Compromettere La salute La salute Della pianta Tra l'altro Vi dico È bastato Pochi giorni Che ci siamo Dimenticati Io e mia moglie Una pianta Di appartamento Fuori Che praticamente L'abbiamo Quasi persa È stata lasciata All'aria Probabilmente Mi sono arrivate Una botta Di freddo E l'abbiamo Persa Adesso Vediamo Se riesco A recuperarla Quindi Ragazzi Proteggete Le piante In giardino Vale Sempre La regola Che è meglio Una protezione In più Che una in meno Cioè Una protezione In meno Può fare La differenza Tra Salvare Quella pianta Oppure No Infine Prima di parlare Di alcune Potature Perché Perché Alcune piante Vanno potate A gennaio Non a febbraio Non a marzo Ma a gennaio Un esempio È glicine Il glicine È una pianta Che siccome Fa questi Grandissimi getti E ha questa Doppia fioritura Con la fioritura Anche in estate Andrebbe potata A gennaio Ok Quindi Prima che Le gemme Si ingrossino Alla stessa maniera Ci sono delle potature Trovate nella descrizione Di questo video Un elenco Di alcune piante Sulle quali Bisognerebbe fare Le potature A gennaio E In particolar modo Poi A gennaio Si fanno Le potature Quelle proprio Di ringiovinimento La gerstremia La gerstremia Ad esempio È una pianta Come la budleia Che va potata A gennaio Ma di potature A gennaio Soprattutto di potature Ad esempio Di riportatura In sagoma Dei piante Che hanno Il gelso Ad esempio Che fa questi getti Che vanno fuori In sagoma L'andiamo a riportare In sagoma Con una potatura Che possiamo Tranquillamente Fare a gennaio Poi in realtà Le potature Delle altre piante Saranno oggetto Da partire Da metà febbraio In poi Tipicamente Le rose Le uole In generale Però Siccome noi Dobbiamo fare Queste potature Adesso E comunque Se non le dobbiamo fare Alcune potature Dovremmo farle Subito Nel prossimo mese Gennaio È un momento Perfetto Per andare a fare La manutenzione Degli attrezzi Nella descrizione Di questa diretta E anche Nel riepilogo Delle slide Che adesso Vengo a farvi vedere Che così concludiamo C'è proprio Alcuni suggerimenti Molto pratici Allora Innanzitutto Mettiamo le slide Per quanto riguarda La manutenzione Degli attrezzi Allora Vabbè L'altezza dell'erba L'abbiamo detto Vediamo un rapido riepilogo Tenere il prato Un po' più alto Se superi i 10 cm Tagliarlo L'infestante L'estripazione manuale I trattamenti diserbanti Ragazzi Non funzionano E dimentichiamoci La stimolazione Eccoli qua In giallo Vedete anche I prodotti Che consiglio di utilizzare La possibilità Di creare I cocktail Già mirati Con idrodizzati Già mirati Già mixati Doveva essere Con idrodizzati Antiproteici Acidi umici E in alcuni casi Azotureico Ne parleremo mercoledì Nella newsletter Pre-stress Always Help E green up I prodotti Da utilizzare L'ammendatura Del terreno Quindi ridare Sostanza organica Natural green Estate inverno Nutrattiva I due prodotti Controllo Del muschio In inverno Il controllo Quindi non L'eliminazione Ma il controllo Water X Da una parte E dall'altra Il solfato di ferro La pulizia delle foglie Il mantenere pulito Il discorso Delle siepi Quindi La concimazione organica Bioattive L'utilizzo Del solfato di ferro Per andare A controbilanciare Le clorosi ferriche Il solfato di rame La calcia idrata Per i trattamenti Delle siepi Di conifere E poi anche Perché non fare Un giretto E fare il trattamento Sulle rose Sui rododendri Sulle camellie Sulla lavanda Sui cipressi Sulle colifere enale Sono tutte piante Che sono a rischio Di malattie Anche in questa stagione Ok La protezione Delle piante delicate Va bene Abbiamo detto Gli attrezzi Vi volevo far vedere Questo Questo piccolo riassunto Perché tra le altre cose Ho intenzione Sabato Di fare proprio Una newsletter Su questo qua Perché Allora Se c'è ruggine Allora Di quali attrezzi Parliamo Forbici Mai avere solo una forbice Mi raccomando ragazzi Troncarami Svetatori Coltellini E seghetti Facendo un po' di attenzione Sui seghetti Allora L'ossidazione della lama Si utilizza una carta da vetro Fina Per andare a togliere La ruggine O le ossidazioni Si può anche utilizzare Una spazzola in ottone Io non utilizzo La spazzola in ferro Ma utilizzo Delle spazzole Un po' più gentili In realtà Mi viene molto meglio Utilizzare La carta da vetro Molto fina Una volta che io Ho pulito Tutte le lame Faccio la fillatura Allora Sulla fillatura C'è Li trovate anche in vesprato Questi qui L'acciaino La pietra E Un piccolo attrezzino A base di ceramica Ok Allora Io solitamente Io solitamente O utilizzo La ceramica Acciaio e ceramica E questo bellissimo attrezzo Della Stoker Che Che lo trovate Nel sito Vediamo se ce l'ho qui Da farvelo vedere Intanto mi sposto E Si fa la filatura Della lama Cosa molto Molto importante Scusate Adesso se mi sentite Un po' Distante Sono semplicemente Andato a prendere Gli attrezzini Così ve li faccio vedere E si fa La filatura Una volta che è fatta La filatura C'è la lubrificazione Ok Allora Ritorno un attimino In diretta Allora Togliamo Andiamo qui Che vi faccio vedere Un po' le cose Sono andato a far vedere Vedere Eccolo qua Questa è la pietra La pietra Corrindone Che viene Che io Utilizza solitamente E questo invece È l'attrezzino Che ha due lati Uno di ceramica E uno con acciaio Super resistente E vengono passati Sulle lame Una volta che ho Fatto In questo caso È una forbice A battente Viene passato Con dei movimenti Da dentro Verso fuori Si possono anche fare Dei movimenti circolari Ma io tendo a fare questo E dopodiché Faccio prima il passaggio Con il lato in acciaio duro E dopo il passaggio Con la ceramica E ho notato Veramente Che funziona Veramente Molto Molto bene Una volta che ho fatto Questo tipo di operazione Vado a fare La lubrificazione Anticorrosiva Ora Si possono utilizzare Dei spray A silicone Bello Eccetera Però Insomma Secondo me Se si utilizzano I prodotti naturali È ancora meglio Si può utilizzare L'olio L'olio di oliva Ma io personalmente Preferisco L'olio di lino Ho trovato anche questo In Besprato Ho trovato L'olio di lino Per agricolo L'olio di lino Che comprate Tra l'altro È uguale Però È una boccetta Che se prendete Quello lì Costa molto meno Perché l'olio di lino Ha anche una leggera Funzione Battericida E fungicida Quindi Oltre che mettere Un velo di protezione Tipo naturale Lino Fa anche Una protezione Da un punto di vista Della Diciamo così Dei batteri E delle cose Va bene Quindi Io lo utilizzo Sia per la protezione E sia per La lubrificazione Vabbè Comunque Se vi interessa Questo argomento E tutti quanti I links A queste cose In realtà Iscrivetevi Nella newsletter Perché poi Sabato Dedicherò Proprio Una newsletter Su questo tipo Di argomenti Bene Abbiamo concluso Più o meno Tutte quante le cose Mi scuso Se le ho dovute Toccare così Molto velocemente Senza entrare Nel dettaglio Adesso risponderò A qualche vostra domanda Nella speranza Di rispondere Nella descrizione Di questa diretta Trovate comunque Un piccolo riepilogo Con elencati All'acqua di rose Un po' I principali Le principali cose Lì ci sono anche Un po' Un po' Di dosaggi Però poi Nelle prossime settimane Andremo in approfondimento Ad esempio Già mercoledì Vediamo se c'è Qualche domanda La quale riesco a rispondere In maniera agevole Senza farvi perdere Troppo tempo E soprattutto Se ne sono capace Allora Lorenzo Ravaglia Rivedendo le dirette Su facebook Ho visto che hai comprato La stazione Meteo Netatmo L'ho comprata Anch'io Oramai da un anno Top per il giardino Sì Devo ancora Far tutto Nel senso che Tra l'altro Non lo posso ancora dire Perché non è Ancora stabilito Non abbiamo ancora Proprio firmato Le cose Però L'idea è quella Lorenzo Che Besprato Diventi Rivenditore Delle centraline Meteo In particolare Quella lì Che ha questo collegamento Si può collegare In esterno Con i sensori Da esterno E soprattutto Alla rete Weatherground Che poi Può essere collegata Anche alle centraline Di irrigazione Del giardino Quindi può essere Veramente Molto utile Comunque Magari Vi farò vedere Anche Anche questo Allora Lorenzo Lorena Scusa Lorena Non ci vedo più Lorena Imperiali Ciao Fabio Ho comprato Water X E volevo dare sul prato Le temperature sono basse Posso comunque Se gela Dopo il trattamento Devo irrigare o no Ho paura che mi bruci l'erba Per i cani È dannosa Allora Non è dannosa per i cani È fondamentalmente Un sapone Non ha controindicazioni Con le gelate Perché Addirittura Le posticipa Per darlo bene Bisognerebbe dare il prato E fare una leggera irrigazione Il che potrebbe essere Controproducente Se è previsto E tanto freddo Quindi di nuovo Lorena Scegli una giornata mite E fai il trattamento Va benissimo fatto Allora Giovanni Caggiano Ciao Deve strasmesti Non capisco A che distanza di giovani Si può ridare La poltiglia bordolese Allora Giovanni In teoria Se la poltiglia bordolese È data bene Adesivizza Per cui Se hai dato Con la calce In quantità corretta In teoria Un trattamento Lo si ripete A distanza di due mesi Quindi Ha una copertura significativa Ovviamente Sempre in relazione A quanta pioggia c'è Se ad esempio Nelle prossime 3-4 settimane Dovesse piovere In continuazione Allora Si fa il trattamento Dopo Dopo un mesetto Ok Allora Ciao a tutti Federico Giuliani A dicembre Ho effettuato Due stimolazioni Con pre-stress A distanza di 20 giorni Ora al prato Sugli 8 cm Ho ordinato Nutrattiva Bravo E appena mi arriverà Lo volevo distribuire Devo tagliare? No Figurati Federico Allora Mi ha risposto in diretta Sei un grande Allora vado in Nutrattiva Ok 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 Va bene Altra cosa Che ne pensi Dell'humus Di lumbrico Ne penso molto bene Federico Ovviamente non per il prato È un ottimo Ammendante Naturale Ben fatto Lo consiglieremo Vedrai A inizio primavera Per tutta la parte Di nutrizione Di alcune piante Perché ci sarà una grandissima novità Perché ci sarà una grandissima novità O meglio Non so a quanti a di voi interessa Però sicuramente a una fetta Interesserà Abbiamo deciso Di inserire all'interno Di vesprato E anche all'interno Un po' di questi contenuti Di parlare un po' di più Delle piante In particolar modo Avevo tutta una serie Di sementi Di piante Annuali Biennali E perenni Per creare Le aiuole In giardino Ovviamente A seme Io sono Un fautore Della creazione Delle piante Degli arbusti Dei fiori Delle aiuole Da fiore Perché hanno Tutta una relatività Comunque Di tipo diverso E l'humus L'ombraico Rientrerà Nei programmi Di concimazione Valnar Ciao Fabio Tagliato il prato A 6 cm Ammendato terreno Con natura green Estate e inverno Poi pre-stress Posso utilizzare Granulare Anche in primavera Invece del vigor liquid Sì Sì Tu sì Tu sì Tu sì Val Perché l'hai utilizzato A primavera Io consiglio Di utilizzare Il vigor liquid A coloro I quali In inverno Non hanno utilizzato Un ammendante Potrebbe essere Anche che Il tuo prato Val Non abbia bisogno Però Una piccola Rintroduzione Di sostanza organica Fa solo che bene Granulare Scusate Francesco Buongiorvi Fabio Io ho dato Le alghe brune Con pre-grade Il 31 Ma considera Che abbiamo Una temperatura A 8-15 Considera che Sfalcio Ogni 10 giorni Allora Non so bene La domanda Comunque Sicuramente Una volta al mese Tu lo devi fare Francesco Luca Turrani Ciao Fabio Il mio prato Ha qualche foglia giallo Che faccio Algae brune Algae brune Dipende Luca Non dovete pensare Che il pre-stress Serve a combattere Gli ingiallimenti Bisogna capire Gli ingiallimenti Bisogna vedere Se alla base La punta Come è stato Nutrito Va Capito Poi potrebbe essere Gli ingiallimenti Un po' di fusariose Un po' di ruggine Un po' di queste situazioni Alcune le possiamo tollerare Non dobbiamo metterci Di a fare i trattamenti Anche Vi dirò Vi svelo un segreto I prati migliori In alcune situazioni Possono prendere Un po' di ruggine Ok Perché la ruggine È tipicamente Di un bel prato Ringoglioso Bello Carico di nutrimento E magari Tenuto Un po' più Altuccio In queste condizioni Il prato Va un po' di sofferenza Di azoto E quindi Arriva La ruggine Azoto Adesso È difficile Da dare È difficile Ad assorbire Darlo sul terreno Non viene assorbito Darlo sulla foglia È complicato Teniamo duro Ovviamente Se il problema Poi invece Si allarga Beh Allora La musica Cambia Allora Se l'ingiallimento Del prato Parte dalla punta Invece che dalla base Dell'erba Cosa Vuol dire Beh Potrebbe voler dire Ad esempio Da do Il wentu Freddo Le gelate Le gelate Le gelate Partono dalle piunte Potrebbe dire Anche Delle carezze nutritive Potrebbe voler dire Uno sfalcio Malfatto Tipo Ecco Queste qui Sono un po' Sono un po' Di casistiche Ok Ho fatto tutti i trattamenti Come da metodo Besprato Non ti devi preoccupare Il vento Potrebbe essere Semplicemente Il freddo Ok Buonasera Buon anno Anche a te Luigi Posella Ciao Fabio Scusate per ritardo Ma domani La rivedrò Va bene Giuseppe Ok Il mio prato È ok Mi fa sapere Rino Ma alcune Ops Ho perso La domanda Ma alcune piante Sono in crisi Usi un metodo Besprato Per Busti e fiore Ok Rino Scriveremo Il nuovo libro Di Besprato Lo chiameremo A filo di pianta Il metodo Besprato Per avere Le piante Verdi Dai Francesco Manda No Francesco Rino Manda un'email A Dr. Green Evidenzia quale pianta Vedrai che io I miei colleghi Ti danno i suggerimenti Francesco Ho visto su Telegram Che ci sarà una lotteria Per coloro che hanno utilizzato Il codice sconto Di che si tratta Faremo Spero O mercoledì O giovedì Oppure Mal che vada Lunedì prossimo Dovamo fare la stasera Ma non ce l'ho fatta Perché Dobbiamo Praticamente Tutte le persone Che hanno fatto Gli ordini Dal 23 Di Dicembre Al 31 Viene estratto Un premio Che è La filpa Che vi vedete addosso Che comunque la trovate In Besprato Il libro Il cappellino Adesso non mi ricordo Ok Allora Lorenzo Ravaglia Vedete che però Francesco Bongiovi Si è iscritto al canale Telegram Iscrivetevi al canale Telegram Ragazzi Lorenzo Ravaglia Per stress Più al Più always Mi potresti dare le dosi Per un'unica soluzione Con la pompa da carrello Da 15 chili Mercoledì Tutto quanto In newsletter Lorenzo Ok Comunque Così Ti posso dire Allora Non ti dico Per la pompa da carrello Da 15 chili Ti dico Per 100 metri quadri Di prato E 10-15 litri D'acqua Dipende Se hai già fatto A dicembre Un trattamento Se l'hai fatto Puoi utilizzare 60-70 grammi Di pre-stress Se no vai anche Di 100 Non gli fa male Always Dipende Se l'hai dato Nel corso dell'autunno Se non l'hai dato Se hai già fatto Un trattamento Di biostimolazione Puoi variare Dai 100 Ai 200 Help O scusa Tu dicevi Green up No Help Tienti Basso E solo Faglielo Annusare Qui Non ti do I dosaggi Perché Dipende Dovei sapere Come è stata La tua Manutenzione Comunque Insomma Io starei Con l'help Meno di 100 grammi Ok Fabio Con temperature 8 e 15 Mi consigli di continuare Il trico Mensilmente O mi fermo No Francesco Io ti consiglio Di continuarlo Cioè Se hai disponibilità Se hai voglia Se hai cosa È un trattamento Che Se mantenuto In maniera costante Fa la massima Copertura Ne ho già fatti due Ok Di pre-stress Quindi ti puoi testare Sui 60 Ciao Fabio Sono connesso ora Michele Ti prometto che domani Mi guardo il filmato Integrale Grazie per il tuo tempo E la tua professionalità Figurati Michele Grazie a voi Anche di seguire Con tanta costanza Insomma Fa sempre piacere Ecco Noi gli sforzi Li facciamo Io li faccio molto Volentieri Una passione Una passione che ho Poi comunque Insomma Molti di voi Anche utilizzano Besprato Non è che Chi vede le dirette Poi compra il libro Compra la felpa Compra il diario No Cioè non è così automatico Però insomma C'è comunque Noi siamo sponsorizzati Da Besprato Dopodiché Potete comprare Dove diavolo Volete le cose Io sono persona libera E mi piace Rimanerno E certo Ringrazio Cioè Besprato Che tra l'altro È una mia creatura Che però Adesso vive Di vita autonoma Ci sono persone Che lavorano Tra le altre cose E così concludiamo La diretta Vi porto i saluti Di Arianna La responsabile Della logistica Di Enrica Il nostro tecnico Architetto Delegato Agli impianti Di irrigazione A tutte quante le cose E poi Tutta quante Alla parte Logistica A partire da Il direttore operativo Claudio Mirco Ai magazzinieri Thomas Al coordinatore Enrico Insomma Tutti quanti Ovviamente Vi fanno Un augurio di buon anno E vi invitano Ovviamente Loro sì Ma anch'io Dai A utilizzare Bestrato Per la vostra soddisfazione Va bene? Bene ragazzi Viva Vivi complimenti A tutti quanti Ciao a tutti Buona Buon lunedì sera Ci vediamo presto Mercoledì Newsletter Con tutti i dosaggi Per quanto riguarda Le stimolazioni L'opportunità Di fare le stimolazioni Sabato Una newsletter Una newsletter dedicata Un po' più operativa A mantenere in utilità Tutti gli attrezzi Che poi andremo a utilizzare Parleremo anche Del tagliaerbo Parleremo anche Del robot tagliaerbo Parleremo Un po' di tutto quanto Buon lunedì a tutti quanti Buona befana A tutti quanti Maschi E femmine Femminucce Femmine Donne Insomma Bene Cosa è successo qua Si è mosso qualcosa Ci sono gli spiriti Ciao a tutti Di nuovo Ciao ragazzi Ci vediamo presto Mamma mia Ho preso spavento